Il tradimento di Leonor viene scoperto da Pablo, Melero gli mostra le foto con la moglie. Come già visto, il ritorno di Leonor nella sop una vita sta portando tra lei e Pablo parecchi problemi, la giovane ha vissuto momenti difficili quando è stata lontano da Acacias, ecco perché è stata così scostante e sembrava ormai provare solo odio per il marito. Tra le altre cose, la povera scrittrice ha subito pressioni da un uomo, tale Mario Melero, che arrivato ad Acacias la ricatterà minacciando di rivelare di aver avuto una relazione con lei. Leonor ha avuto una relazione con Mario. Nella sop una vita aggiungerà un certo Mario Melero. Il nome non dice nulla, ma c'è qualcuno nella sop che lo conosce bene, si tratta di Leonor Il Dano. La moglie di Pablo è molto strana da quando ha fatto ritorno a casa. Per pagare una somma a Melero è costretta a cedere la proprietà della sua parte del giacimento d'oro a Ramon Palacio. Ma la somma di denaro ottenuta le verrà sottratta indebitamente da Abiba. Quando l'uomo farà la sua comparsa ad Acacias, Leonor, dopo aver chiesto in vano aiuto a Cayetana, Sara Miguel, per riuscire a pagare la somma che le chiede Mario, cercherà di trovare in tutti i modi soldi per far tenere la bocca chiusa all'uomo. Pablo scopre la verità. La scrittrice arriverà anche a rubare dei gioielli a Rosina, ed un assegno a Victor. Pablo capirà che la moglie nasconde qualcosa perché scoprirà questi furti. La donna messa con le spalle al muro gli racconterà che Melero la ricatta e che non è vero che è un marinaio conosciuto durante il viaggio. Inoltre, Abiba e sua compice, l'ha accompagnata in Spagna per essere certa che avrebbe pagato quanto richiesto dal negriero. La figlia di Rosina, però, terrà nascosto al marito una parte della verità, su cosa è successo realmente tra lei e Melero. Pablo fingerà di ipotecare la loro casa per pagare il denaro che chiede Mario Melero, quando sarà a faccia a faccia con lui scoprirà la dolorosa verità, l'uomo dirà al giovane che Leonor non è mai stata una delle sue schiave e le mostrerà delle fotografie con la Eldago che possono dimostrare le sue parole, confessandogli di aver avuto una relazione con lei quando si trovava a Fernando P. Pablo affronterà Leonor, e profondamente scosso per la scoperta, le dirà che non la perdonerà mai per il suo tradimento. Ma davvero Leonor ha tradito Pablo perché ha preso una sbandata per Melero o c'è dell'altro? In verità, la ragazza non ha potuto fare altrimenti, dovendo scegliere il male minore e a confermarlo sarà proprio Abiba. Pablo riuscirà a comprendere e a perdonare la moglie? Pablo riuscirà a comprendere e a perdonare la scoperta.